Volevo dare, ecco, nella mia esperienza, un modesto consiglio. Io mi occupo di timidi, da sempre, nell'antitimidezza. Ho potuto vedere che le reazioni delle persone chiuse in sé possono essere anche molto pericolose. Le famose acquechete, quando si sviluppano nella reazione violenta diventano violentissime. Quindi il caso, sto parlando del caso di Filippo e Giulia. Filippo probabilmente era un ragazzo frustrato, un ragazzo che aveva diverse problematiche anche di accettazione nella sua piccola società. E queste cose verranno fuori, vedrete che verranno fuori. Non voglio giustificare l'atto, ma voglio dare un consiglio alle persone che si trovano nelle condizioni di Giulia. Forse Giulia, con la psicoscenica ludocurativa, che è il mio criterio, si sarebbe salvata. Perché se ti capita, ecco, mi rivolgo soprattutto alle donne, se ti capita di essere portata in un luogo deserto, come può essere una zona industriale, dal tuo ex, ecco, o anche da chiunque, può anche essere un'amica, eccetera. Può accadere anche agli uomini. Se ti capita questa circostanza, mettiti già in allarme, perché già lì c'è un luogo molto pericoloso, perché non riesci ad avere evidentemente degli aiuti esterni, dovesse esserci il bisogno. Come agire? Mai con la fuga, perché sviluppi la sindrome del lupo e della pecora. Quindi se tu fuggi, come ha fatto purtroppo Giulia, il lupo si alimenta della sua forza, diciamo, violenta, e ti colpisce. Cosa fare, quindi? Assecondare, la parola d'ordine è il teatro, psicoscenica, ludocurativa, il timidol, assecondare il violento, la violenta, il violento, come con tutti i mezzi. Mettiamo che Giulia, mettiamo che Filippo avesse chiesto a Giulia cose assolutamente fuori di ogni logica, come per esempio non ti laureare giovedì, ma ci laureiamo insieme, magari fra tre o quattro mesi io faccio gli esami e ci laureiamo insieme. Sì, Giulia doveva dire sì, va bene, lo assecondava, lo poteva assecondare in tutti i modi, diciamo, e forse adesso sarebbe salva. La cosa più importante da fare, cara amica, è portare a casa la pelle. Poi quando sei a casa ci pensi a farti difendere dei tuoi amici, delle tue amiche e delle forze dell'ordine. Ma prima porta a casa la pelle, asseconda sempre l'orco. Ricordati che l'orco può manifestarsi anche nella persona più tranquilla.